Ciao a tutti e benvenuti con un nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, abbiamo visto quanto vale la moneta da 50 lire e quanto vale la 50 lire piccolina, intesa la versione Vulcano, con il Dio Vulcano. In questo video invece vediamo brevemente come è fatta la moneta da 50 lire turrita e poi vediamo anche quale è il suo valore. Ma prima di iniziare ricorda di cliccare un bel mi piace in modo tale da sostenere il mio lavoro e se non sei ancora iscritto, iscriviti per non perdere i prossimi video. Allora, iniziamo con un attimino una piccola parentesi. Ci siamo ritrovati per la maggior parte degli anni a utilizzare la moneta da 50 lire e versione grande. Poi si optò per una versione più piccola, ma ci si rese molto presto, ci si rese conto che erano molto molto scomode e si perdevano facilmente. Quindi si optò per una via di mezzo, ovvero la 50 lire turrita. Vediamo come è fatta questa moneta. Allora, nella faccia principale troviamo in grande la scritta 50 lire, che è appunto il valore nominale della moneta. Poi troviamo nella parte alta l'anno di coniazione, che può essere 1996, 1997, 1998 e 1999 per le monete destinate alla circolazione. Poi ci sarebbero anche gli anni 2000 e 2001, che sono però appartenenti ai divisionali. O meglio, non sono state coniate per la circolazione, quindi non sono state coniate per farle utilizzare dal popolo, ma sono state coniate esclusivamente per i collezionisti, quindi gli anni 2000 e 2001 si trovano solo da chi colleziona. Oltre a questi dettagli troviamo una ruota da ingranaggio, un grappolo d'uva, un ramo di alloro, un ramo di quercia e poi la cornucopia. Sul lato sinistro troviamo una piccola lettera R, che indica che questa moneta è stata coniata dalla Zecca di Roma. Ruotiamo la nostra moneta. Come si ruotano le vecchie lire? Io ci tengo sempre a sottolinearlo, perché tanti ruotano le vecchie lire come se si trattasse di monete in euro e quindi credono poi che la moneta sia stata coniata al contrario e si allarmano sperando che la propria moneta abbia un errore di conio. Bene ragazzi, le monete in vecchie lire si ruotano dal basso verso l'alto, quindi la rotazione corretta è questa. Quindi se ruotando la moneta vedete la faccia in questo modo, è completamente normale. Qui troviamo il volto dell'Italia Turrita rivolto verso sinistra. Se ci fate caso ci sono delle torri sul capo, proprio per questo viene detta Italia Turrita. Poi c'è la scritta Repubblica Italiana lungo tutto il bordo. Nella parte più bassa troviamo una stella e poi una sigla L Cretara. Questa è la firma dell'incisore della moneta, ovvero Laura Cretara. Quindi ora che abbiamo visto velocemente come è fatta questa moneta, parliamo anche del suo valore. La ruotiamo nuovamente. Ricordiamo quindi che questa moneta è stata coniata nel 96, 97, 98 e 99 e è destinata alla circolazione. Il valore di queste monete, se in fior di conio, è di 1 massimo 2 euro. Quindi è una moneta che è stata coniata in milioni di esemplari e che non ha mai acquisito un valore importante, proprio perché è molto molto facile da trovare in condizioni di fior di conio. Per chi non lo sapesse, una moneta in fior di conio è una moneta che non ha mai circolato. Questa è stata maneggiata, è stata usurata, è stata graffiata, quindi non è assolutamente una moneta in fior di conio. Quindi di conseguenza, quanto vale una moneta come questa che è stata toccata e è stata utilizzata ogni giorno per tanti anni? Purtroppo monete di questo tipo, una volta maneggiate, hanno un valore 0, proprio perché è facile trovarle e acquistarle in fior di conio e quindi di conseguenza, se hanno circolato, non hanno alcun valore. Dicevo però che ci sono anche monete del 2000 e 2001, quelle si trovano soltanto nei divisionali, solitamente se le si vuole acquistare singolarmente, quindi senza acquistare il divisionale completo, si riescono a trovare a circa 5 euro per pezzo. Esiste una moneta particolare di questa versione, ovvero per l'anno 1996 è riconosciuto che ci sono stati coniati alcuni esemplari dove viene a mancare la firma di Laura Cretara, ovvero la sigla L Cretara non c'è. Ci si deve innanzitutto accertare che la firma manchi perché effettivamente non è stata coniata, perché alcuni magari credono che se la moneta sia usurata, allora magari non è stata coniata la sigla e di conseguenza si tratta di un errore di conio. No ragazzi, è essenziale che si noti la differenza e che venga proprio o meno la coniazione della firma dell'incisore. In questo caso, anno 1996, ripeto, è un anno in cui questo errore è riconosciuto, nel senso che si è verificato più volte, diversi collezionisti hanno questa moneta, in quel caso, in fior di conio, la moneta può arrivare a valere 15€, quindi non si tratta comunque di un valore particolare, però comunque è una varietà che per i collezionisti della Repubblica Italiana magari può interessare. Bene, detto questo, credo di aver detto tutto, come al solito vi invito a lasciare un commento se avete domande, dubbi, o semplicemente volete scrivere un grazie a me fa sempre piacere ricevere un complimento, un ringraziamento. Ecco, e ricordo ancora una volta ragazzi, tutti i video presenti sul mio canale sono a libera consultazione, potete guardarli milioni e milioni di volte gratuitamente, quello che vi chiedo io è soltanto di lasciare un bel mi piace. Se vi piace il mio canale, iscrivetevi in modo tale da poter vedere anche i prossimi video, se volete vedere video riguardanti altre monete o magari banconote, scrivetelo tra i commenti, io cercherò di accontentarvi il prima possibile. Bene ragazzi, non mi resta che augurarvi una buona giornata, un buon collezionismo, ciao a tutti, ciao!